5 accessori intelligenti per la casa Dispenser di sapone Lo apri, metti un po' di sapone Tanta acqua Chiudi, shakeri Ed ecco, schiuma a volontà Tavolino elettrico Può diventare alto, molto alto Oppure può anche diventare molto basso Comodo per tanti utilizzi diversi Spioncino elettronico Per vedere chi c'è dall'altra parte della porta E se qualcuno ti suona ti squilla il telefono come se fosse una videochiamata E puoi perfino rispondere mutando la tua voce Attenzione però a non ledere la privacy delle altre persone Porta rotolo Perfetto per chi sta al telefono in bagno Così quando devi pulirti Posi comodamente il telefono qui sopra Continuando a vedere le cose che ti ispirano Pulitore a ultrasuoni Lo riempi d'acqua Metti al suo interno le cose che vuoi pulire Chiudi Lo avvii E gli ultrasuoni faranno il resto E allo scadere del timer Sarà tutto come nuovo Ma non metterci il telefono